... ... ... ... ... ... ... ... Poi le batte sopra Maghietta Gialla, Bumio, Di Mancinello, Atletica Migio, Alpinistico Gertrovese, Atletica Valle Premane, Tanti albori a livello internazionale, e poi Santi Nuova a Londra, Atletica Cinisello, e Garetto 75. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Atletica Cinisello che questa mattina a Milano hanno fatto correre 12.000 donne con l'Amo Running, che oggi si chiedono da 1 squadra da 1.004. Atletica Mungio sempre davanti. Poi Cinisello e poi dovrebbe esserci mandato in questa posizione. Grazie. 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 Vai Susanna, vai Susi Abbiamo 100 metri di stragi Grazie 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 Posso darvi una buona notizia Abre Sanone Un ragazzo della Lombardia 6.581 punti Marco Lone, primato italiano del Vecano Pensate che soddisfazione per questo ragazzo che lo ricordo è stato preferito, avva vinto Giudini, che andò a fatto il campo a fare il giudice, ma sono un apparello di un altro superiore, di un altro superiore, di un altro italiano, di un altro italiano e la mamma fa giudice qua Che soddisfazione Che soddisfazione Che mamma Grazie 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 Grazie